Un ciao a Gossip News! È iniziata l'estate, quindi il caldo, benissimo! Lo sopporti bene? Ma sì, poi voglio dire, ti permette di andare al mare, prendere il sole, vestire in un certo modo, quindi lo adoro! E anche se in realtà le attrici non possono prendere molto il sole quando girano? No, però diciamo che con la protezione giusta si può, si può! Senti, stasera hai scelto un abito assolutamente bellissimo, elegantissimo, di chi è? Grazie, di Eva Gavaravani! Tu hai stilisti preferiti che ami? Ma sono tanti, io seguo la moda come tutte le ragazze, non so, dell'età mia, 23 anni, mi piace Alberta Ferretti per la sua eleganza, Non mi piace Dolce & Gabbana perché è sempre molto fashion, kitsch o anche Vivian Westwood con cui ho avuto rapporti lavorativi, tante, tantissime! Non finirei più di elencartele, veramente!